salve a tutti lo so avevo detto al corso settimana che avrei fatto un po di farming e no non l'ho fatto non l'ho fatto per diciamo di cambi di palinzesto in corsa nel senso che quando registrato questa puntata pensavo che questa è la settimana e come vedete questo gameplay non continuasse essere un'altra settimana per l'inizio settimana come state vedo avrete notato che invece non è così che questa settimana le puntate saranno tre questa credo che sarà la puntata che metto online scusatemi fatemi controllare meglio fatemi controllare meglio questa puntata la metterei online il mercoledì si il mercoledì è questo quindi niente farming continuiamo a prendere legnate inenarrabili così proprio fresh and squeeze dice proprio legnate così senza senza potenziamenti senza niente soltanto tante 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 legnate c'è perché insomma non illudiamoci amuleto acqua io ora che ci penso ora che ci penso io sto pensando a oggetti allora no porca equipaggiamento allora bomba esplosiva e allora l'amuleto fuoco pezzo ci faccio ci faccio niente allora vaso d'acqua yokai no l'acqua yokai no io voglio acqua sacra berla vabbè io voglio 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 no io avevo l'amuleto d'acqua ce l'avevo ce l'ho amuleto fulmine o amuleto acqua ok scelta rapida amuleto d'acqua ce l'ho bomba esplosiva e risil bomba frammentazione io non lo so c'è qualcosa di acqua bomba esplosiva ma sordente acqua sacra acqua sacra mi metto un'acqua sacra eeeh io dove vedo acqua mi prece non eeeh palla di sterco beh io ma io dove mi ritrovo tutte ste cose per curiosità campana della convocazione mi vabbè eeeh amuleto acqua già messo amuleto fulmine no aspetta dov'è l'amuleto oh ecco questo volevo amuleto del bradipo a posto a posto a posto a posto a posto a posto quindi quindi allora mettiamo qua 125 182 vada per 105 one nation one station vai si ok tutto molto bello ma ora ecco ora piangiamo io ho sbagliato perchè eeeh aspetta ok 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 eeeh ah 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 iiii aspetta ok ma porca miseria ah eh devo usare la prima vabbè vabbè che è scuola vabbè ok oh oh no no eh quello è già morto è già morto è già morto ah eeeh oh cacchio ah siiii aspetta 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 ah via eh si pure le ruote pure le ruote eeeh ma che aiii clavu sterlenga eh ok eeeh e che scatole eeeh eeeh tu curati ok vai non vedo ok una pietra che ci devo fare con una pietra eeeh va no calma calma uuuh è che mmm calma ah ah uuuh iiii iiiiia curati porca miseria eeeh e vabbè io che devo fare con queste però eeeh bradipo niente non ha la ah non l'ha bradipizzato però però ci sono anche i nemici rompi i piccoli rompini ci sono i piccoli rompini dai eeeh ahhh aaaaaaaa via eeeh 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 scatole curati ahhh ok calma curati ok aspetta e che scatole ahhh ahhh porca via curati curati ma curati porca calma calma ahhh ehhh uh curati ok non ho più cure ehhh lei ha troppe energie no vabbè non ce la faccio non ce la posso fare mai questo attacco così non riesco a evitarlo perchè anche se mi schivo tipo mi segue ehhh chiamolo trekking cioè è una roba che non so come devo affrontare proprio non ne ho idea di come devo affrontare questa cosa allora bazzacodana un muletto d'acqua teoricamente un mattino otto va bene eh muletto del bradiput si io voglio acquistare vabbè ok si 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 li voglio li voglio li voglio li voglio ok allora ok ora che abbiamo qua 105 76 102 mmmm ok vado per questo 102 no va proprio questo 102 non lo so ma cosa mi dice di si allora ok e andiamo ahh ah 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 calma calma pietro spirito piccolo come... ah gli rescippo praticamente da... eeeh... pezza... ok va... caccia che... eh sì... mo che dovrei fare però con queste cose... con questo che va ah... aspetta... ehi con me... eeeh... vai... ah... porca... ok... calma... questo è un momento bruno... eh... porca pub... calma... calma... vai qua... manda... ah... ok... ah... via... curati... curati... ma maledetto... ah... ok... dai... eh... ciao... curati... ok... ah... porca... eeeh... che palle... curati... ah... ah... porca miseria... ah... allora... curati... ok... ok... ma che palle... pure... eeeh... vabbè... calma... calma... ah... 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 porca... via... 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 curati... ok... eeeh... calma... però... non ce la faccio... eeeh... vabbè... non ce la faccio... e ci provo l'ultima... ok... ok... vabbè... eeeh... poi che non troppe cose a qui sbadare ogni volta... eeeh... no... è finito... non va... anche stavolta non va... niente... non... non ci... riesco proprio... dovrò... fare... molto... dovrò fare molto... dovrò fare molto... dovrò fare molto... dovrò fare molto anche a livello di... o... o faccio molto a livello di farming... o... o a certo punto mollo il gioco... e ve lo dico molto serenamente... perché insomma non... sapete come la penso... inutile che mi... mi porri a ottenere... le dote... allora... ho messo fulmine... ma questo ci faccio... ci faccio... e ci faccio... 202... no vabbè... io sono... credo di avere tipo 260... cosa del genere... non ci faccio assolutamente nulla... vabbè... quindi... aspetta... però non ho un muletto d'acqua... non posso comprarle... allora... mo chi... chi viene a morire con me... allora... 72... 76... 96... benissimo... tutti sotto i 100... ok... eh... vabbè... non è che c'è più... bloccato un modo di... sparare da qui... no... 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 vabbè... niente... niente... eh... allora... signorina... cinica... eh... eh... io... io pure mi... tra l'altro mi sono anche dimenticato di fare questo discorso... ecco... vabbè... ok... calma... via... calma... no... ok... no... vabbè... ok... calma... calma... eh... no... 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 ok... bravo... ok... 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 ma porca... ok... 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 ma io non... ho potuto fare... eeeh... ok... 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 io non... ho potuto fare... eeeh... iiii... iiii... iaaah... curatì... ok... ee�i mohè... che pag... ee bu развитiv ... ok... Bene Ah mica non ho più Non ho più armi di canto Perfetto Ok Vabbè giustamente Non capire se devo morire per questi Questi cosicchi Certo Vabbè dai Curati per favore Oh ok Vai oh nena Via Eh Oh Eh vabbè Non 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 riesco a venire a capo Non riesco a venire a capo di questa cosa Fai offerta Bazzarco dama Allora Io Ok 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 Ammonetto d'acqua Ce l'ho sempre qui Eh Va bene E allora Va bene Io Provo Provo Vedo Non lo so Allora 72 76 96 Sempre Sempre quelli E vabbè E allora E allora Va bene Allora Ok E andiamo Con l'acqua Vabbè 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 Per favore Curati Per favore Ok Io qua Ok Ok Ah Vabbè Ho finito Ok Io li ho finito Allora Poi Ah Vai 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 Ok Che pensavo Pensavo che Che Causasse Stun Quella No Aspetta Lo spirito Aspetta Lo spirito Lo spirito Eeeh La bim Ah Ok Ok Ma che palle Ma che palle Oh Che la faccio Che la faccio Non riesco a evitare Nulla Di questo Eh niente Non riesco a evitare Non posso Niente Niente Non posso Non posso Io che devo fare Che devo fare Con questa Caffare Ecco Che devo fare Ah Porca Via Ok 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 Ja Ok Tuo Tiet Ketukai Porca curati ok no oh ma che tu ok 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 eh eh si vabbè no minchia devo curarmi curati ok porca sento bevo sta cosa che mi recupera il chi più velocemente dai via io io ce la metto tutta però eh si vabbè curati ok ok guarda di po' no non la ruota non la ruota ok 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 Ma che E' ancora Eh si Vabbè Oh Sì Continuo ad avere dot di fuoco in continuazione Io stavo sempre a fuoco Sono il contenuto di un barbecue praticamente Allora Bevo questa cosa non lo so Io non so che cosa sto facendo No Ma che cos'è che mi Ancora sti tizi Anche la ruota si può rompere Per fortuna Eh Ah Ah Niente No ma Non Ma Io devo Prendo legnate e basta Prendo le Non ho come Prendo legnate e basta Non riesco a evitarlo Non riesco a evitarlo Non riesco a evitare i colpi E se schifo mi segue Che Ma che Se paro C'è il dot da fuoco E che E che dot E che dot E che dot Allora Io Io Compro tutte Ecco tanto Io Le tazze Le tazze Ce le ho Effetti speciali Danno Alle spalle subito Meno Alle spalle Ah Sì da dietro Difesa 100 Vabbè Un caschetto difesa 100 Ormai me ne faccio niente Vabbè Diciamo per ora Ci fermiamo qui La prossima puntata Registerò subito dopo E Questo Tu Verrai con me Alla prossima